bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono misterion e oggi ragazzi devo parlare a bassa voce perchè c'è ancora mio fratello che dorme voglio portare un pack opening un chest opening su questo gioco qua quindi iniziamo da questi che è schifo buono e qua aspettate che devo fare una cosa io ok perchè mi ero dimenticato di sbloccare però visto che con questi qua di argento posso mettere guarda annuncio e quando ho messo guarda annuncio sono gratis quindi incominciamo da quello più scherzo a quello più forte ultimo quindi quindi se mi sono letto questo gioco sul canale che ve lo porto ascoltate ve lo porto quindi ciao grazie a tutti